Coltivava droga nel giardino di casa, nel centro storico di Oliastro Cilento. DL, 51 anni, è stato arrestato dai carabinieri che hanno sequestrato 24 piante di canape indiana. Alcune piante erano in bella mostra sul balcone, altre collocate sia nel giardino di casa che nella stessa abitazione, dove sono state trovate anche le foglie essiccate. Inoltre armi non denunciate, una baionetta risalente pare alla prima guerra mondiale, due coltelli ed un fucile con retrocarica. I reati contestati al 51enne sono la coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, spaccio e detenzione abusiva di armi. L'uomo si trova ora ai domiciliari. L'arresto è frutto di un'attività di indagine dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinata dal comandante Giulio Presutti. I militari da diverso tempo seguivano i movimenti dell'uomo, fino all'epilogo giunto nella mattinata di ieri. L'uomo vive da solo nel centro storico, dove aveva intrapreso l'intensa attività di coltivazione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente che poi veniva venduta sul territorio, ma molto probabilmente anche nei comuni limitrofi. Alcuni mesi fa i carabinieri del posto arrestarono altri due giovani, che presi forse dall'idea di fare guadagni facili, erano intenti a coltivare canapa. Anche in quel caso le piante erano custodite in casa, credendo che fosse un luogo sicuro.